Presentata a Teramo la campagna informativa sulle attività della rete provinciale per la prevenzione ed il contrasto della violenza, che attua l'iniziativa promossa un anno fa dal prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi, e approvata dal Ministero dell'Interno. L'obiettivo è quello di rendere note le attività sinergiche svolte dalla rete provinciale, alla quale chiunque può rivolgersi per prevenire e contrastare la violenza nelle sue varie forme. Il protocollo è stato finalizzato all'istituzione di una rete, di una rete fra tutti i soggetti coinvolti e interessati, centri antiviolenza, soggetti istituzionali, quindi la creazione di una rete. Noi abbiamo anche adottato delle linee guida, dopo il protocollo, che hanno proprio lo scopo mirato di fare in modo che la rete funzioni. Questa è una cosa molto importante, evitando che ci siano interruzioni nell'assistenza alle vittime di violenza. Ecco, questo è lo scopo del protocollo e questo è lo scopo delle linee guida che abbiamo fatto dopo l'approvazione del protocollo. Ovviamente voi sapete che l'attività sta continuando. Questo è un altro appuntamento che è diretto a sensibilizzare tutti, la società civile e tutti quanti, perché è proprio la cabina di regia che abbiamo istituito in seno al protocollo che ha proceduto all'adozione e all'elaborazione di questa locandina che proprio vuole essere diretta a sensibilizzare tutti, a sensibilizzare la società civile verso il tema della violenza. Nel 2018 sono aumentate le percosse e le violenze sessuali, perché noi abbiamo nel 2017 12 violenze sessuali, nel 2018 ce ne abbiamo 14, poi abbiamo le percosse 26 nel 2018, 21 nel 2017. Tutti gli altri dati, atti persecutori, minacce, lesioni e maltrattamenti, sono invece in diminuzione.